La difficile situazione del corpo. La norma. La tensione interna. Messa in cassaforte. Lo sviluppo dell'ambiente urbano. Non sa fare i propri interessi. Noto locale della zona. Ogni maledetta domenica. Per assentrismo e per posizioni di ispirazione nazionalista. Il passato è stato. Per il battesimo del progetto. Per un secondo. Preso di mira l'altro ieri. Pubblicata una registrazione di un dialogo. A dubbi di sorta circa. Sembrano avviati alla resa dei conti. Senza veri sulla lingua. Un nuovo terremoto sta scuotendo la cortina. Una corona fasulla di una istituzione fasulla. Contradice la stessa legge naturale.